Buonasera amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo dei problemi del nostro settore e della legge regionale sull'editoria perché è da registrare la dura presa di posizione dell'Asso Stampa con il suo presidente Giuseppe Di Pietro che ha contestato apertamente e duramente la regione. La norma, già lontana da quella promessa, ha detto Di Pietro, è stata integrata da un regolamento attuativo che aggiunge ulteriori perplessità. Nel collegato alla finanziaria, ha concluso il presidente dell'Asso Stampa, si vorrebbero approvare altre modifiche, peraltro maldestre. Ce ne parla in apertura Tonino Danese. Dura nota del presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro che contesta apertamente la regione. La legge per il sostegno e l'informazione approvata ben lontana da quella norma auspicata e promessa alla vigilia, ha scritto è stata integrata da un regolamento attuativo che aggiunge altre perplessità e opacità. Tra queste, ha aggiunto la delega all'ordine dei giornalisti per la verifica delle assunzioni e della regolarità contributiva che l'ImpG ha ovviamente bloccato. Nel collegato alla finanziaria regionale, si vorrebbero approvare ulteriori modifiche, peraltro maldestre, ha continuato Giuseppe Di Pietro, che premiano chi ha alti costi generali a discapito dell'occupazione, mettono sullo stesso piano i lavoratori assunti e chi non ha il contratto ed escludono incomprensibilmente dalle provvidenze le testate che non hanno sede in immobili a destinazione industriale o commerciale. Commi e codicilli inopportuni li ha definiti il presidente dell'Asso Stampa che appartengono a un mondo passato. Questo è inaccettabile, non favorisce la corretta applicazione della legge. Ha proseguito nella nota, di fatto si aggiunge confusione al caos esistente. Il risultato è che i fondi non potranno essere erogati e in assenza di norme certe resteranno bloccati, peraltro tempo indefinito, con grave danno per il comparto editoriale che da anni è alle prese con una crisi devastante. Il sindacato dei giornalisti ha concluso dicendo di condividere le perplessità di molti operatori del settore e chiede un confronto serio e responsabile sulla materia e resta a disposizione per contribuire a definire regole certe e utili agli obiettivi richiesti. In realtà questa legge sull'editoria è stata costruita contro la nostra azienda visto che finanzia o meglio intende finanziare tutti gli organi di informazione del Molise ad esclusione di Telemolise. Ma andiamo avanti. Sono cominciati questa mattina al Tribunale di Isernia gli interrogatori di garanzia dei principali indagati nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su una serie di appalti pilotati che ha coinvolto amministratori, tecnici, comunali e imprenditori. C'era per noi Sergio Di Vincenzo. Troppo poco tempo a disposizione per studiare un fascicolo composto da oltre 5.000 pagine. Per questo quasi tutti i principali indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere non prima però di chiedere la revoca delle misure cautelari ritenute troppo severe. Diversa la linea di Roberto Calabrese il sindaco di Forli del Sannio assistito dagli avvocati Marciano Moscardino e Bici Antonelli ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Isernia Antonio Ruscito. I legali si sono detti fiduciosi e convinti di riuscire a dimostrare il corretto operato del primo cittadino. Il primo a presentarsi davanti al magistrato è stato l'imprenditore Angelo Rossi assistito dall'avvocato Antonino Mancini. Ho avuto modo in questo weekend di festa di dedicarmi abbondantemente all'indagine svolta che vede in maniera molto molto limitata coinvolta la figura del mio cliente. Su oltre 30 capi di imputazione parliamo di esigenze cautelare presupposte dal GIP solo per circa 5 capi di imputazione. una figura marginale, un castello di sabbia l'indagine. Poi è stata la volta dell'imprenditore Donato Terriaca assistito dall'avvocato Arturo Messere. Ho chiesto la revoca del provvedimento perché a mio avviso non esistono le esigenze cautelari perché non esiste il pericolo di reiterazione concreto e quindi manca la concretezza e l'attualità della misura in quanto tutti i fatti risalgono a circa due anni fa. Diversa la strategia difensiva per l'altro assistito l'imprenditore Claudio Favellato per il quale è stato disposto il solo obbligo di dimora nel comune di residenza. Ci sono state delle risposte puntuali, precise e nel caso di specie a mio avviso mancano sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari. Anche Fabio Milano, avvocato di fiducia dell'imprenditore Giampaolo Calabrese, ha preso tempo per studiare meglio le carte. Il quadro probatorio ancora non è chiaro e delineato e soprattutto le contestazioni che ci vengono fatte da parte della procura ancora non sono definitive. Il mio cliente è sereno, non ha nulla da nascondere e vuole al più presto chiarire quella che è la sua posizione e la sua assoluta estranetà. Persona incensurata che è la prima volta che entra in un tribunale. Interrogatorio di garanzia anche per Lenio Petrocelli funzionario della regione e all'epoca dei fatti sindaco d'Acquaviva di Sernia. Assistito dall'avvocato Domenico Di Paolo è considerato dagli inquirenti il perno centrale dell'inchiesta. Il mio cliente è assolutamente sereno, sicuramente avrà modo di chiarire tutti gli aspetti della vicenda e di verificare analiticamente passo per passo quanto dovesse risultare dal fascico delle indagini. Lei ha detto insomma appalti regolari? Assolutamente sì, è assolutamente tutto regolare non ci sono interventi di alcun tipo, di alcun genere che possono aver alterato il normale equilibrio dei rapporti tra imprese o tra amministrazioni. E si sono concluse le indagini della procura di Larino a carico di un romeno accusato dai carabinieri di aver ucciso a bastonate un connazionale in un casolare in contrada Padula, Montenero di Bisaccia. L'uomo di 48 anni deve rispondere di omicidio volontario. A morire nel corso di una discussione nella notte tra il 28 e il 29 settembre fu Ion Sutu Anchegli Romeno di 46 anni. L'aggressore, secondo le indagini, ubriaco in un impeto di collera avrebbe colpito con un bastone il connazionale che morì poco dopo. Andiamo a Isernia e parliamo dell'elezione del sindaco perché anche Nina Moric cavalca l'onda e si candida alle comunali del capoluogo Pentro. Non è uno scherzo, ma la nuova puntata della polemica su Facebook scatenata da un post dell'ex moglie di Fabrizio Corona. Intanto, a parte la Moric, ci sono grosse novità sul fronte delle liste. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Secondo paradossale capitolo della vicenda di Nina Moric che oramai è diventata il caso del giorno sui social network per farsi perdonare l'ex moglie di Fabrizio Corona ha provveduto prima a chiedere scusa alla nostra regione poi, in segno di pace, si è proposta addirittura come candidata alle prossime elezioni comunali di Isernia con lo slogan Molise ovunque. Insomma, la barzelletta continua con Nina Moric che approfitta del caso per farsi un po' di pubblicità gratuita e con il Molise che acquista quella visibilità sui media che neanche l'Expo ci aveva regalato. Ma passando alle cose serie cioè alle elezioni, quelle vere, del sindaco di Isernia da registrare una novità abbastanza importante che fa salire le quotazioni di Cosmo Tedeschi. Infatti sono in corso trattative segrete ma non tanto tra l'imprenditore che vuole diventare sindaco e Domenico Di Baggio consigliere uscente dell'Udc nonché persona ritenuta da sempre vicina a Mimmo Itzi. In sostanza, dopo i famosi dissidenti anche una parte dell'elettorato delle frazioni si sta alleando con Cosmo Tedeschi. Non è un fattore secondario da sempre sono le frazioni che spostano gli equilibri politici a Isernia e Domenico Di Baggio oltre che ufficiale medico dell'esercito è da sempre uno dei più votati nelle frazioni. Provando a ricapitolare i personaggi forti delle frazioni di Isernia sono Roberto Di Baggio ex assessore riferimento isernino dell'assessore Nagni che sta con la Formichelli Domenico Chiacchieri e Cesare Pietrangelo ex consiglieri che stanno con Giacomo D'Apollonio Domenico Di Baggio che sta passando con Cosmo Tedeschi e per finire Angelo Patriarca che è il riferimento per le borgate di Gabriele Melogli. In sostanza, tutti i candidati sindaci cercano alleati tra i 5.000 residenti nelle frazioni e al momento chi sembra stare meglio è proprio Giacomo D'Apollonio che ha con sé due candidati forti Chiacchieri e Pietrangelo poi Tedeschi con Domenico Di Baggio Formichelli con Roberto Di Baggio e Melogli con Angelo Patriarca. Per il resto si attendono i nomi degli altri candidati consiglieri e fare le liste non è così semplice come potrebbe sembrare tant'è che si prevedono parecchie liste che non arriveranno a 32 consiglieri e anche liste con candidati non isernini. Insomma, continua la caccia al candidato e più richiesti sono i rappresentanti delle frazioni anche perché tra i cittadini di Sermia Centro c'è molta diffidenza e autentico distacco con la politica dopo le ultime delusioni e gli scioglimenti anticipati a ripetizione. Fumata nera al Consiglio Comunale di Campobasso convocato questa mattina per approvare le tariffe IMU e Tari è aggiornato a venerdì. Come accade ormai spesso è venuto meno il numero legale per l'assenza dei consiglieri di maggioranza critici i 5 Stelle e la coalizione civica che hanno espresso sdegno per quanto si verifica in aula. Anna Maria Di Matteo. Nulla di fatto in Consiglio Comunale a Campobasso la seduta convocata per questa mattina per approvare le tariffe IMU e Tari è stata aggiornata venerdì prossimo in seconda convocazione. La causa del rinvio è sempre la stessa la maggioranza non si è presentata. Al primo appello alle 8.30 in aula erano in 10 compreso il sindaco alla seconda chiama c'erano 16 consiglieri su 21 con vistose assenze proprio tra i banchi della maggioranza. Le opposizioni sono uscite dall'aula ed è venuto meno il numero legale. tra le vibrate proteste del Movimento 5 Stelle dei consiglieri della coalizione civica che si sono detti sdegnati e disgustati per quanto è accaduto in aula. Un episodio che non è isolato e che sta diventando ormai una pericolosa consuetudine. Le assenze strategiche tra i banchi del centro-sinistra paralizzano di fatto l'attività del Comune chiamata ad affrontare molte emergenze. La penosa situazione alla quale da tempo stiamo assistendo assume rilevanza per il fatto stesso che i lavori non sono proprio iniziati a causa dell'assenza di parte della maggioranza che tiene letteralmente sotto scacco il centro-sinistra e il Comune di Campobasso hanno denunciato i consiglieri di minoranza. Dissertare la seduta rappresenta la mancata quadratura del cerchio per tutta una serie di dinamiche politiche e programmatiche che ruotano intorno alla maggioranza che tradotto vuole dire mancato accordo tra il sindaco e i suoi sull'allargamento della giunta un passaggio previsto nell'intesa elettorale tra Battista e gli alleati che al momento sembra difficile da realizzare. L'unico tassello che il sindaco è riuscito ad inserire in un puzzle sempre più complicato è stato l'ingresso di Stefano Ramundo poi lo stop. Le trattative stanno andando avanti tra fibrillazione e tensione all'interno della maggioranza anche in relazione alla nomina di una donna tra gli assessori nel rispetto della legge. I due papabili entrambi uomini proprio non ne vogliono sapere di rinunciare ad un posto in giunta e c'è già chi prevede la presentazione di un ricorso nel caso in cui tra i due nuovi assessori non ci sia una donna. Insomma le grane sono come gli esami per il sindaco Battista non finiscono mai. Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste così si è pronunciato il giudice del tribunale di Larino nei confronti di Giuseppe Gianrusso finito sotto inchiesta per i lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Biferno. Il PM aveva chiesto la prescrizione dei reati ipotizzati nei suoi confronti e in quelli di altri imputati ma Giuseppe Gianrusso sicuro di essere del tutto estraneo alla vicenda aveva rinunciato. Il giudice allora stralciando la sua posizione ha emesso la sentenza di assoluzione piena. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Gianrusso naturalmente dal suo avvocato Carlo Moscato. Raccolta differenziata si fa sul serio dopo gli annunci arrivano i fondi della regione per il comprensorio di Isernia è previsto un finanziamento al comune per 700 mila euro il servizio è di Enzo di Gaetano. Ci sono 700 mila euro per la raccolta differenziata nella zona di Isernia li ha stanziati la regione che li ha fatti arrivare al capoluogo Pentro gestore dell'appalto per la fornitura del materiale potranno partecipare alla fornitura tutte le ditte del settore così finalmente il comune di Isernia ha potuto pubblicare la gara per la fornitura dell'attrezzatura destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti l'intervento è stato predisposto dal comune capofila ovvero Isernia e riguarderà i centri di Isernia Carpilone Castellpizzuto Macchia di Isernia Pesche e Pettoranello del Molise i lotti previsti all'interno del bando sono quattro per un importo complessivo di circa 717.000 euro di questi circa 523.000 euro sono destinate alla fornitura di attrezzature per il sistema di raccolta porta a porta invece 107.000 euro saranno destinati all'acquisto di cassoni per autocarri e 24.000 euro per la pesa ponte metallica infine 63.000 euro saranno destinati ai carrelli elevatori e al transpallet il bando prevede come scadenza di presentazione delle offerte le ore 12 del 20 maggio prossimo per quanto riguarda invece l'apertura delle buste si svolgerà alle 9 e mezza del 24 maggio negli uffici di Palazzo San Francesco a Isernia i fondi previsti per la fornitura destinata alla raccolta differenziata rigadono tra le risorse del Parmolise per la gestione dei rifiuti urbani ufficialmente operava come organizzazione con fini culturali e ricreativi di fatto si trattava di una vera e propria attività commerciale regolarmente aperta al pubblico in qualità di bar caffè l'esercizio che si trova in un comune dell'area frentana è stato ispezionato dalle fiamme gialle di Larino che in particolare hanno controllato l'attività nel periodo 2013-2016 all'esito della verifica i finanzieri hanno accertato ricavi sottratti al fisco per 115.000 euro connesse violazioni all'IVA all'IRAP e alla tenuta della contabilità parliamo ora di salute e sicurezza sul lavoro perché l'INAIL ha firmato un protocollo d'intesa con gli ordini degli ingegneri chimici geometri architetti e periti ce ne parla Tonino Danese un protocollo d'intesa di durata triennale con l'obiettivo di migliorare la qualità della sicurezza nell'ambiente di lavoro attraverso progetti per ridurre infortuni e malattie professionali lo hanno siglato INAIL e ordini di ingegneri chimici geometri architetti e periti nella sede dell'istituto di assistenza infortuni sul lavoro a Campobasso questo protocollo d'intesa è un primo protocollo che ci fa fare squadra ci fa fare rete sul territorio e mettere in comune le risorse per fare informazione formazione sensibilizzazione alle imprese sul territorio e contribuire a costruire la cultura della sicurezza anche in un periodo di crisi e di problemi del mondo del lavoro questo protocollo d'intesa mira a far mettere in comune le risorse per promuovere un ciclo di seminari perché no anche di pubblicazioni o di eventi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si baserà sulla creazione di un tavolo permanente dove le parti si incontreranno periodicamente per progettare anche nuove attività aderenti alla situazione del momento nel territorio regionale un protocollo un'intesa un dialogo costante un'azione comune in tema di prevenzione sicurezza certificazione verifica delle attrezzature un percorso di collaborazione quello tra INAIL e ordini professionali in questione realizzato da circa un anno con diverse attività INAIL che ha anche diffuso gli ultimi dati relativi alle malattie professionali e soprattutto agli infortuni sul lavoro Gli infortuni hanno avuto una diminuzione di oltre il 4% nel 2015 rispetto al 2014 invece nel primo trimestre di quest'anno nel 2016 registriamo un'inversione di tendenza e una crescita di circa il 2% dei casi denunciati all'istituto Per quanto riguarda le malattie? Nei casi denunciati ho ricompreso anche le malattie se andiamo a dividere gli infortuni dalle malattie professionali troviamo una crescita degli infortuni e una diminuzione delle malattie in controtendenza anche questo dato perché le malattie professionali nel tempo tendevano a crescere Spesa sanitaria pubblica pro capite stabile in Italia a 1817 euro ma resta più bassa che in altri paesi lo evidenzia il rapporto serva salute a livello regionale la spesa più alta si registra in Molise con 2.226 euro e la più bassa in Campania 1.689 il gap di 537 euro tra il 2013 e il 2014 12 regioni hanno ridotto il loro consumo sanitario pro capite mentre 9 ne hanno incrementato il valore fra queste ultime tre sono quelle in piano di rientro Campania Puglia Puglia e Molise parliamo ora dell'erogazione di mutui ipotecari e prestiti personali il Molise è fanalino di coda il dato emerge dall'analisi elaborata dalla centrale rischi finanziari mentre il mezzogiorno lancia segnali di ripresa la nostra regione è ferma al palo e ce ne parla Anna Maria di Matteo il mezzogiorno comincia a lanciare segnali di ripresa anzi per alcune regioni come la Basilicata si tratta di un vero e proprio exploit lo dicono i dati diffusi da un'analisi condotta dalla CRIF la centrale rischi finanziari sui prestiti e mutui erogati nel corso del 2015 viene fuori che anche in molte regioni del sud la richiesta di mutui ipotecari e di prestiti personali è tornata a crescere con la Basilicata che ottiene un vero e proprio primato con somme ben al di sopra della media nazionale il Molise invece è in controtendenza la nostra regione è infatti penultima per mutui ipotecari per 99.861 euro meglio solo della Campania ma per poco stessa situazione per i prestiti finalizzati e per quelli personali che vengono richiesti per l'acquisto di beni durevoli come arredamento e auto settori che in Molise restano in una situazione stagnante con gli investimenti pressoché fermi per le imprese e i cittadini dunque le difficoltà di accesso al credito restano l'elemento che frena la ripresa le banche dal canto loro non possono concedere mutui o finanziamenti a chi non possiede un reddito stabile o delle garanzie e questo lo ha capito anche la regione che per bocca del neossessore all'attività produttive veneziale ha annunciato l'istituzione del fondo unico anticrisi con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro risorse erogate da Fimolise destinate al sostegno delle attività imprenditoriali il tentativo per correre ripari ed arginare una crisi che nel Molise e solo nel Molise a quanto pare sembra essere drammaticamente inarrestabile tutti gli indicatori continuano a presentare il segno meno la disoccupazione soprattutto quella giovanile ha raggiunto livelli di vera emergenza per quei giovani senza un posto di lavoro ottenere un prestito o un mutuo per mettere su casa è una missione impossibile per l'appalto dei lavori di recupero e trasformazione in un centro polifunzionale del palazzo Liberty di Venafro la regione ha concesso un finanziamento di un milione e duecentomila euro ma ad oggi l'edificio sembra essere lontano dalla sua inaugurazione quanto afferma il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo che annuncia di aver presentato sulla vicenda dell'edificio di Venafro un'interrogazione al governatore Frattura e all'assessore Nagni per avere chiarimenti secondo Scarabeo alcune irregolarità amministrative potrebbero determinare ritardi sulla fine dei lavori e la successiva apertura al pubblico del manufatto all'ex lavatoio di Isernia è stato presentato il libro dal titolo Dannate esclusioni scritto da Vania Mancini racconta in particolare le vicende dei Rom internati nei campi di concentramento molisani durante la seconda guerra mondiale all'incontro era presente anche l'editore Renato Curcio fondatore e leader delle Brigate rosse c'era per noi Sergio di Vincenzo a un anno dall'apertura dello sportello informativo per migranti l'Arci Immigrazione di Isernia ha voluto fare un primo bilancio delle sue attività l'associazione è diventata un punto di riferimento per circa 150 utenti che hanno beneficiato di numerosi servizi di assistenza gratuita dall'orientamento medico-sanitario al supporto burocratico e legale per festeggiare il primo compleanno si è scelto di presentare un libro che parla di esclusioni e diseguaglianze all'incontro ha partecipato anche l'editore del volume Renato Curcio fondatore e leader storico delle Brigate Rosse sin dai tempi del carcere impegnato nel sociale e nella cultura dannate esclusioni scritto da Vania Mancini originaria di Pietrabbonnante racconta le vicende dei campi Rom di Roma ma soprattutto parla dei dimenticati campi di concentramento del Molise durante la seconda guerra mondiale mi sono documentata grazie anche alla collaborazione con alcuni altri scrittori con Paolo Tanzi e con alcuni studenti che hanno collaborato a studiare a reperire diciamo anche da documentazione anche dal stesso comune di Sernia poi sono usciti timbrati dei fogli in cui c'erano gli elenchi delle persone che erano state internate in questi campi di concentramento che uno era ad Agnone che era un ex convento utilizzato come campo di concentramento un altro era a Vinchiaturo un altro era a Boiano e un altro era qui a Isernia maggiormente all'interno venivano internati i Rom non perché avevano commesso un reato ma perché erano in quanto Rom come esclusione sociale il volume vuol lanciare anche un messaggio di speranza spiegare che un modo per abbattere odi e discriminazioni esiste bisogna partire dalla conoscenza secondo me dall'incontro dalla conoscenza per evitare innanzitutto la conoscenza con l'altra persona per evitare dell'esclusione sociale nasce proprio da non volere questa conoscenza da non volere conoscere l'altra persona da non accertarla a priori invece mentre le differenze devono essere vissute come un arricchimento si è concluso a Larino il progetto di educazione stradale rivolto agli studenti delle scuole elementari organizzato dalla provincia in collaborazione con la guardia di finanza oggi il test finale la consegna del patentino del super ciclista ce ne parla Manuela Iorio ultima lezione oggi a Larino per gli studenti delle classi quinte della scuola elementare che hanno seguito un corso di educazione stradale organizzato dalla provincia di Campobasso con la collaborazione della guardia di finanza lezioni a colpi di segnali stradali norme per la circolazione e sicurezza dei pedoni tutte nozioni che per la maggior parte degli studenti sono state delle vere e proprie novità sono tanti anni che la provincia si occupa di educazione stradale nelle scuole solo quest'anno sono stati 2000 gli studenti che hanno seguito il progetto abbiamo sempre ritenuto che dare informazioni così in tenera età possono riguardare e quindi per i ragazzi è un alto valore formativo perché i ragazzi adesso sono pedoni sono ciclisti e quindi possono apprendere e consolidare le norme del rispetto delle regole una sana convivenza civile tutto quello che viene proposto ed insegnato ai ragazzi di quinte elementare qui è rivolto il progetto ecco al termine proprio del progetto viene consegnato ai ragazzi anche un piccolo tesserino sì noi abbiamo organizzato il corso in otto lezioni la nona lezione quella valutativa tra virgolette con la consegna del patentino di super ciclista ci sono dei quiz c'è una prova di disegno con un tema e quest'anno in collaborazione con l'ACI c'è anche la realizzazione sia di uno slogan che un testo breve le lezioni sono state tenute dalla guardia di finanza entusiasti gli studenti che sono entrati subito in empatia con il loro insegnante di educazione stradale si sono svolte su varie argomentazioni dai segnali della strada al comportamento dei pedoni al comportamento del ciclista anche per questo diciamo questo corso viene rilasciato il patentino da super ciclista è stata un'esperienza emozionante anche perché i bambini hanno risposto in maniera straordinaria sono stati coinvolti emotivamente ma hanno anche con la voglia di conoscere e di sapere hanno dimostrato in maniera encomiabile la loro voglia di imparare e il loro senso civico che a me dà diciamo insegnamento anche a noi più grandi e intanto il primo circolo di Termoli ha organizzato un seminario rivolto a genitori e insegnanti della scuola materna e delle elementari dal titolo intelligenza emotiva strategie per la prevenzione del disagio giovanile nella scuola e in famiglia l'appuntamento è per domani alle 17 nei locali della chiesa del Carmelo tra i relatori il presidente dell'ordine degli psicologi del Molise Nicola Malorni e le psicologhe Daniela Marchesani e Simona Vigilante una festa all'insegna della solidarietà e del volontariato è stata quella organizzata dall'Avis di Isernia in occasione della giornata del donatore che si è svolta a Castelpetroso sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Valeria Farina è una delle forme di volontariato e di solidarietà più forte la donazione del sangue coinvolge sempre più persone di ogni età e che per diversi motivi si mettono al servizio del prossimo e di chi ne ha bisogno l'Avis l'associazione volontari italiani sangue della sezione di Isernia ha organizzato come ogni anno la giornata del donatore l'evento è iniziato con la messa celebrata nel santuario dell'addolorata di Castelpetroso ed è proseguito con un momento conviviale ma anche di confronto e di unione tra i donatori è una festa che noi ormai da anni per tradizione facciamo quindi la festa del donatore perché è giusto che il donatore almeno un giorno venga gratificato considerando che viene a donare il suo sangue quindi la sua disponibilità non ha prezzo Donare il sangue è un messaggio non solo di aiuto e di vicinanza verso chi ne ha più bisogno ma anche un gesto nobile perché donando il sangue si dona la vita la sezione Avis di Isernia che vantaggia un numero notevole di associati tramite i suoi rappresentanti spera comunque che in futuro la cultura della donazione si diffonda sempre di più anche tra le nuove generazioni lanciare questo messaggio alle nuove generazioni è che di non mettersi paura di un piccolo ago che è indolore non fa niente ma è un messaggio di procreazione di vita perché donare oggi è importante il sangue oggi serve serve assai serve spesso è una cultura che voglio immettere alle nuove generazioni di non aver paura di dare vita alla vita e con la festa dell'Avis organizzata a Castelpetroso termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte grazie a tutti